Le vedove del Vangelo come simbolo della vedovanza della Chiesa che aspetta il ritorno di Gesù. Papa Francesco parte da questa riflessione nell'Omelia della Messa a Casa Santa Marta per spiegare il Vangelo di oggi con la vedova che offre al Tempio la sua più grande ricchezza mentre gli altri davano solo il superfluo. La Chiesa quando è fedele, sottolinea il Papa, lascia tutto in attesa del suo Signore. Quando non lo è, cerca di arrangiarsi con altre sicurezze, più dal mondo che da Dio. C'è dunque una Chiesa fedele a questa vedovanza, una Chiesa tiepida, mediocre e mondana che cerca appigli in altre realtà come la nostra anima. Pertanto, conclude il Papa, è bene ripetere, vieni Signore Gesù. Ma il cuore della Chiesa è sempre col suo sposo, con Gesù, e lassù. Anche la nostra anima, secondo i padri del deserti, si assomiglia tanto alla Chiesa. E quando la nostra vita è più vicina a Gesù, si allontana di tante cose mondane, cose che non servono, che non li aiutano, che li allontanano di Gesù. Così è la nostra Chiesa, che cerca il suo sposo, aspetta il suo sposo, aspetta quell'incontro, che piange per i suoi figli, lotta per i suoi figli, dà tutto quello che ha perché il suo interesse è soltanto il suo sposo. Così è la nostra Chiesa, la nostra Chiesa, la nostra Chiesa è la nostra Chiesa.